E Italia e Argentina si accontentano di un piccolo bus Ma non sono le uniche ad avere quest'idea Aspetta, aspetta, blocca questa Non stop, non stop, go, 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 go No, 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 no Sì, stai con voi? Vieni, vieni Yes, vai, punta Saliamo, siamo disperati, per forza Ma questa ve la ricordate poi o no? Mi ricordo tutto nella vita Bravo Di solito non ci piace stare con gli altri Cioè nel senso che ci piace stare nel nostro, nella nostra gara Però mai gli estremi, estremi rimedi Non stop, non stop, non stop, no, 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 Tutti con noi, tutti con noi. Dai che si fa una festa, andiamo. Siamo tutti nella stessa festa. Ok. Vai, vai. Andiamo. Basta, adesso non vi dovete fermare più. Correte. I giganti, i giganti, i giganti. No, i giganti. Ciao, Ale. Eccoli qua. No, 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 no space, no space, no space. Go, 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 go. Please. Thank you. Bo, come on, where are they gonna stay? No, no, no space. Mi mancavano i giganti! Tutti insieme! Eh, oggi tutti quanti insieme nel pulmino, che bello! Facciamo il pulmino a Pechino Express. Siamo tornati ai dieci anni quando si andava a fare le città scolastiche. Domani firmiamo tutti insieme il libro. Tutti insieme! Mi sento generosa ma non mi sta bene, capito? Come siamo contenti che siamo tutti insieme qua. Abbiamo accolto tutti con estremo piacere il nostro pulmino. Non so perché l'abbiamo fermato prima noi. Quello sì, davvero sì, l'abbiamo accolto tutti. Loro ci hanno visto noi e hanno fatto vai vai vai, lui si è fermato uguale. Poi dopo si è visto loro vai 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 tutti e due. Si è fermato uguale, ora è risuccesso uguale. Quindi siamo tutti uguali, eh. No, no, però aspetta! Siamo tutti i bastardi, sai? Siamo tutti stronzi. Tutti amici, tutti amici, poi invece alle spalle ti coltellano. Almeno io le dico le cose in faccia, come sono. Noi non abbiamo detto no, no, quando se stavate voi. Vai vai, non stop! Don't stop! Don't stop! Go, 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 go! Guarda che ti cresce il naso, eh Pinocchio! Damiano, come ti permetti? Io dico sempre la verità. Ancora in strada ci sono le amiche e i caressa. Bokongai. No, sono troppo. Grazie. Perché non abbiamo preso l'autobus? Abbiamo sbagliato tutto. Cuo di un nuovo video, Mostra la la, Grazie a tutti